Il decoro e la sicurezza dei quartieri padovani passa anche e soprattutto dall'illuminazione pubblica. Nel quartiere di Mortise arriva la nuova illuminazione a LED, un piano da 210.000 euro di fondi PNRR per posizionare 220 nuovi punti luce. L'intervento iniziato nei giorni scorsi finirà entro i primi di febbraio. Andiamo a sostituire l'illuminazione incandescenza, che è molto dispendiosa, con le nuove lampade a LED. Una luce più confortevole, una luce migliore e circa il 40% dei risparmi in bolletta per il comune di Padova sono risparmi dei cittadini padovani. In questo modo anche in questo quartiere abbiamo un'illuminazione migliore, un quartiere meglio illuminato, è un quartiere più decoroso, ma anche un quartiere dove si cammina la sera più sicuri. Con l'intervento nel quartiere di Mortise, circa il 50% della città avrà l'illuminazione a LED, così facendo i consumi saranno ridotti del 40%.